Il Tribunale federale nazionale ha inflitto 13 punti di penalizzazione all'Aquila Calcio con l'erogazione di una pesante ammenda da 150.000 euro. E' questo il verdetto del primo grado del processo sportivo Dirty Soccer. Più che dimezzata l'entità della penalizzazione rispetto alla richiesta della Procura federale di meno 31, il sotarizio rosso-blu paga per le condotte che sono state addebitate all'ex responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola. In particolare vengono attribuiti tre punti per ciascuna delle responsabilità oggettive aggravate associate a quattro partite per le quali è stato riscontrato l'illecito Sant'Arcangelo-L'Aquila, L'Aquila-Savona, L'Aquila-Tuttocuoio e L'Aquila-Sant'Arcangelo. Un punto per ogni responsabilità oggettiva attenuata che sia stata associata a tre partite nelle quali non compare L'Aquila, Grosseto-Sant'Arcangelo, Cremonese-Propatria e Barletta-Catanzaro. Tutte le responsabilità presunte sono state assorbite dalle oggettive. Facendo la somma sono 15 punti di penalizzazione ridotti a 13 in applicazione dei poteri previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, articolo 19. Allo stesso Ercole Di Nicola sono stati inflitti 5 anni di inibizione da scontare in continuità con i 5 anni già inflitti per l'illecito della partita tra Savone e Teramo più 100.000 euro di ammenda per le condotte illecite riferite alle suddette partite. Tra gli altri verdetti imputabili al medesimo processo sportivo, in particolare quelli inerenti alle squadre del girone B di Lega Pro, ci sono 6 punti di penalizzazione inflitti al Sant'Arcangelo e altri 2 al già dilagnato Savona. 3.000 euro di ammenda alla maceratese. Tra i tesserati 5 anni e preclusione più altri 9 mesi per il massaggiatore del Sant'Arcangelo Daniele Ciardi, 4 anni e 2 mesi per l'ex DS di Chieti e Pescara Enzo Nucifora, 4 anni per l'ex tecnico del Savona Arturo Di Napoli, 3 anni all'ex difensore di L'Aquila e Giulianova Mirko Garaffoni, 8 mesi all'ex giocatore del Sant'Arcangelo Giacomo Ridolfi, 6 mesi a Gianni Califano, 3 mesi all'ex tecnico del Savona Nini Corda, anche in questo caso applicando l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva per chi collabora alle indagini. Tra le società prosciolte il Livorno di Serie B, Prato e Tutto Cuoio in Lega Pro, tra i tesserati prosciolti i calciatori del Sant'Arcangelo Guidone o Bengetraorè e del Tutto Cuoio Baldè. Inutile dire che per tutti questi verdetti è possibile fare ricorso sia da parte di chi è stato sanzionato sia da parte della Procura Federale. In attesa dunque della sentenza della Corte Federale d'Appello che potrebbe modificare inibizioni e penalizzazioni, al momento la classifica dice che l'Aquila scende al terzo ultimo posto con 14 punti, il Sant'Arcangelo al quarto ultimo posto con 17 punti, resta ultimo il Savona con 9 punti.